Musica Diffuse altre immagini inedite dell'assalto al cantiere Tava Chiomonte San Didero durante il Festival dell'Alta Felicità di Venaus che ha richiamato migliaia di persone in Val Susa. Si vede, come potete osservare, la prospettiva dall'alto attraverso i droni che documentano la presenza di centinaia di attivisti coinvolti negli scontri. La polizia è impegnata a identificare i responsabili dell'assalto mentre continua la conta dei danni. Ora lo so, non è solo questione di luogo, di casa tua o mia. Non è solo lo scempio per un'altra ferrovia. Tutto è finito tra le mani di incalliti criminali. Con logica robotica più che d'umani o d'animali I boschi, il vento, il grano, l'acqua, le stagioni Perfino le idee, le risate, le emozioni Succede un po' dovunque qualcuno che decide Di noi della natura come una cosa sua Val Susa l'ha capito, Val Susa non ci sta Il treno di lunardi veloce fa paura Distrugge la vallata, inquina l'aria pura Dilaga la follia Uomini ingordi ed istruttori Gridando sarà dura Non li vogliamo più Gridando sarà dura Non li vogliamo più